Buonasera e bentrovati all'appuntamento di oggi, martedì 30 gennaio. Piazza Affari, trascinata dai bancari, riesce ad essere protagonista di una seduta brillante molto migliore a quelle di altri listini europei. A livello macro arrivano intanto buone note dalla fiducia dei consumatori americani. Il tutto aspettando i conti dei colossi Microsoft e Alphabet, ovvero Google, che verranno presentati a mercati chiusi ed in attesa anche della Fed, che si riunirà domani. Il Fuzzimib ha avuto una tendenza realzista praticamente per tutta la giornata. Lo dimostra anche il fatto che la chiusura con un guadagno pari all'1,29% è prossima ai massimi di seduta. Come dicevamo, altre piazze europee hanno chiuso positive, ma hanno faticato di più. È il caso per esempio di Francoforte, che archivia a più 0,27 una giornata in cui è stata sempre positiva, senza però allontanarsi mai più di tanto dalla parità, se non in apertura. Ancora minori gli acquisti a Wall Street. Se il Dow Jones supera solo di poco i valori di chiusura di ieri, il Nasdaq sta accusando un'evidente flessione. Stellantis occupa la vetta del Fuzzimib, riconquistando i 20 e 22 punti vista ad inizio mese, aggiudicandosi un ottimo più 3,83%. Oggi si apprende che la Francia incrementa i diritti al voto della società automobilistica applicando lo stesso meccanismo di Exor, che ricordiamo detiene circa il 15% di Stellantis. In rialzo i titoli del settore bancario. Spiccano le performance positive di Intesa San Paolo, più 3,41%, Banco BPM sopra il più 3%, Biperbanca più 2,82% e Monte dei Paschi più 2,79%. In coda al Fuzzimib, con un calo a doppia cifra, c'è Saipem. Il titolo precipita a meno 12,72, quotazione registrata a fine ottobre 2023, in seguito ad un incidente che ha stoppato l'installazione di un gasdotto in Australia. Telecom lascia sul parterre poco più di due punti, percentuale molto simile a quella registrata da Tenaris, che per la seconda seduta consecutiva arretra e registra un nuovo minimo settimanale. Cali frazionali di poco superiore al mezzo punto, quelli registrati a fine seduta, da Pirelli e poste italiane, meno 0,59%. Infatti, la Commissione europea ha deciso di effettuare ispezioni in aziende del settore pneumatici su un presunto cartello dei prezzi. Pirelli conferma piena collaborazione con l'autorità antitrust europea nell'ambito di questa indagine, garantendo una costante correttezza. Passiamo al Forex. Euro-dollaro rimane ancorato ai valori della scorsa mezzanotte, dopo una prima parte di mattinata negativa, seguita però da un recupero. Ora il cambio si trova in area 1, 0,8 e 40. Più sensibili i rialzi che riguardano altri cross, come euro-sterlina ed euro-yen. Entrambi stanno infatti guadagnando qualche decimo di punto percentuale. L'appuntamento di questa sera si chiude con l'intervista all'analista Giacomo. Ospite delle interviste di Traderlink di oggi, Giacomo Moie, analista tecnico, per dare uno sguardo insieme agli indici. A te la parola. Bentrovata Rossana e grazie per l'invito. Un'eurozona crescita a zero, secondo i dati PIL rilasciate stamane per il quarto trimestre del 2023, non pregiudica il recupero per gli indici europei del terreno perduto ieri. Tra oggi e giovedì i dati dei colossi tecnologici americani si confronteranno con quelle che sono le attese degli analisti che da settembre, ricordiamo, hanno alzato del 4% le stime sugli utili delle sette B tecnologiche. Venendo alla condizione tecnica sugli indici, il Futsi Mib, qui osservato in grafico giornaliero di Visual Trader, resta ancora impigliato nelle maglie della lateralità, attestata anche dal passaggio ravvicinato e orizzontale dei livelli dinamici, tutti prossimi tra loro. L'intercettazione a rialzo di 30.425, vista stamane a metà seduta, ha riattivato l'ipotesi rialzista di breve, secondo i nostri modelli, pur in presenza di una selva di resistenze ora prima della violazione dei massimi assoluti. Presidio protettivo stop attestabile in questo momento a 30.090 punti, indice minimo di ieri, attenzione perché un epilogo odierno al di sotto dei 30.250 riporterebbe in inizialmente ribassista la lettura operativa di breve comunque sul Futsi Mib. Per quanto concerne il DAX, passando agli indici internazionali, reduce da una forza relativa superiore rispetto a quella di altri indici, sicuramente rispetto al Futsi Mib. Ecco, qui la tonicità più recente ha rapportato l'indice adesso al test dei massimi assoluti, rivisti a metà dicembre, tra 16.950 e 17.000 punti indice verifica per l'indice tedesco sulla reale capacità di proseguimento nel recupero. Attualmente ancora non intercettato, 17.003 il massimo assoluto diviene a questo punto il contingente riferimento a cui guardare il livello spartiacque a partire da quest'oggi. Passando all'S&P 500 nella ricognizione degli indici internazionali, qui osservato in grafico giornaliero, prosegue l'indice americano in territorio grafico inesplorato, ieri nuovo massimo assoluto, presidio protettivo dell'ipotesi rialzista e della continuazione delle possibilità di positività restano presidiate, dicevamo, a 4.865 punti indice per questa fase che definiamo di sensibilità da possibile reazione delle trimestrali dei BIC tecnologici, come dicevamo, Rossana. Grazie Giacomo, io ti ringrazio per tutte le informazioni e con te rimando l'appuntamento alla prossima volta. È tutto, non mi resta che ringraziarvi per la visione e rinnovarvi l'appuntamento a domani. Buona serata, arrivederci.